ciao a tutti salve bentornati l'otro sì evviva il festival d'inverno siamo qui perché finalmente io che sono quello che salto io sono questa posso prendere il cavalluccio del festival esattamente che io ho già preso però è il secondo cavalluccio perché ho già posseggo adesso vado vicino posso tengo questo qui sono vicino adesso questo qui che ora vi indico quello vittering ule steed volevo il frosty steed che è esattamente quest'altro qui allora parlo con l'omino ho già tutti i token necessari frosty shop no perché ho già il documento dovrei già averlo preso comunque quando faccio barter items no mi manca il documento allora devo comprare giustamente il documento frosty shops che l'avevo detto io ok frosty steed parte no c'è la borsa tutta piena svuota un posto a borsa perché ho un sacco di strunzate documento di orso scipia e butto combo ha sfruttato di niente un managgio faccio ammirare il cavallino tutto il suo splendore salve nel frattempo vi faccio ammirare anche me in tutto il mio splendore salve ah è vero qua non ti posso salve niente devo versci un pendolo non puoi buttare la roba quindi cerco di spiegare in te adesso mi mette qualcosa facciamoci un getto devo per forza buttare oh c'è un cavaliere dell'eree qua in zona si che l'ha visto passato ok questi sono i nomi ma è meglio senza vieno riproviamo ok sono pronto vai il frosty steed yeah eeeh preso si no kiosk si è l'ultimo è l'ultimo eccolo qui ok e allora yule festival tatan mia collezionista di di cavalli di cavalli ha adesso tutte tu 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 mi piace così di mostrarci tutto il nostro bellezza in un posto un po' largo qui va bene da che lato ti metti esattamente dimmi tu mi piace ok così ricordo che oggi si riprende il rush a riprendere guarda facciamo anche così che è un po' meglio ammirateci nel nostro splendore mitico tan 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 facciamo anche poveri cavallini però qui ci vuole un vestito decente allora aspetta ci vuole un vestitello decente quindi penso che mi metterò questo se ooooh adesso probabilmente ci potete ancora ammirare guardate quanto siamo bella non so se vi abbiamo già mostrato dov'è che si fa il festival non lo so io direi di sbloggare loro mhm e loggare gli altri due e portarli fino al posto del festival tu che ne dici? non so in che posto mi trovo con l'altra ci possiamo provare andiamo ciao 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 ciao